E' dimostrato che i prodotti promozionali sono molto efficaci per il successo delle campagne pubblicitarie. Personalizzati con il logo aziendale e offerti nell'ambito delle promozioni, oppure regalati come incentivo al personale o ai clienti, mettono in evidenza il marchio, aumentano la fedeltà verso di esso e influenzano le preferenze dei clienti. PF Concept, fondata nel 1984 e con sede nei Paesi Bassi, è l'azienda europea LIDA in questo settore. Offre una gamma straordinariamente completa di soluzioni promozionali. Facciamo parte del gruppo PolyConcept, LIDA mondiale nel settore dei prodotti promozionali, con filiali in 5 continenti che commercializzano i prodotti in oltre 100 Paesi. Il gruppo PolyConcept, con sede negli Stati Uniti e uffici in Canada, Europa e Cina, fornisce a centinaia di migliaia di distributori in tutto il mondo una vasta gamma di gadgets promozionali, abbigliamento e articoli regalo di alto valore. At PolyConcept, we're constantly finding creative ways for organizations to promote their brands using high-quality merchandise, and our aim is to be the absolute global leader in supplying and supporting our customers, who are the world's best promotional products resellers. PolyConcept's global product development teams ensure that our resellers have exciting product choices across both the hard goods and apparel categories. Our multi-process custom decorating capabilities, located strategically around the world, offer exciting branding options to the end-user, and our world-class supply chain delivers our custom branded products fast, in any quantity, every time. Il gruppo PolyConcept è suddiviso in quattro unità aziendali, PolyConcept North America, PFConcept, PolyConcept International Markets, e Global Buying Services del gruppo. PFConcept pursues the $10 billion European market and is a key component to the global PolyConcept vision and story. We have the broadest product portfolio and with the shared expertise and support of the PolyConcept Group, we're going to grow our European business significantly and increase our market share. PFConcept ha nove filiali commerciali dedicate all'assistenza dei nostri clienti. La presenza e vicinanza sul territorio consentono di offrire il miglior servizio e la migliore assistenza ai nostri clienti. PFConcept, the European footprint of the Global PolyConcept Group, has been a leading company in the promotion industry for more than 30 years. Our vision is to simplify our client's work life through custom-made solutions, and that every day. We believe in building relationships, not only transactions. Following our strategy to be multi-specialist, we offer a wide range of image-enhancing products, with excellent decoration and online services. We are committed to the highest standard of corporate social responsibility and product compliance. L'ampio portafoglio di PFConcept, composto da circa 10.000 articoli, è suddiviso in quattro mondi distinti. Bullet offre gadget promozionali economici, quali ad esempio articoli tecnologici, borse e strumenti per la scrittura, facilmente personalizzabili. Gli articoli Bullet Best sono prodotti intramontabili, monitorati costantemente, per offrire ogni giorno il miglior rapporto qualità-prezzo. Avenue offre articoli di valore, con marchi concessi in licenza, quali Ballman e Parker, nonché marchi di nostra proprietà, quali iFidelity, Marksman e Elevate. Label offre una gamma completa di capi d'abbigliamento, da quelli per ogni giorno all'intramontabile abbigliamento sportivo. Il nostro centro, dedicato al servizio di personalizzazione, offre tecniche quali ricamo, sublimazione, incisione lesa e stampa impressione. Con più di 16 programmi dedicati alla fornitura di prodotti fatti su misura, WorldSource offre un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione. Tutti questi straordinari prodotti sono introdotti sul mercato attraverso un team motivato di designer, responsabili di prodotto ed esperti di marketing. We have teams in Europe, the U.S., and Asia who all work together to identify opportunities and most importantly capitalize on those opportunities quickly. So our designers are driven by what they see, what they understand, and most importantly what they can build into products that give functional benefits and ultimately at price points that are relevant to the end users or relevant to the promotional product industry. We make our products available via catalogs, via websites, we make the tools relevant in a specific language, and importantly we train our sales force. So our sales force is the most knowledgeable and the most effective in the industry. PF Concept wants to be close to its partners. With 80 team members in our local customer services reachable over the phone, they are all native speakers. Our 40 account managers are therefore experts of our products and know everything about the best way to decorate them. To support your business online, we have specialists dedicated to connecting our systems in the most efficient way. But you can also experience our products in one of our 15 showrooms all over Europe, from Warsaw to Madrid, from Amsterdam to Milan. PF Concept offre anche straordinari servizi di personalizzazione e consegna dalla Polonia, dove è presente il nostro magazzino centralizzato recentemente ampliato. Gli stabilimenti PF Logo Express uniscono logistica e personalizzazione, consentendo la centralizzazione europea di tutti i servizi. In tal modo, PF Concept si configura come unico punto di riferimento per ogni tipo di cliente, dalle piccole aziende alle imprese di grandi dimensioni. PF Concept continuerà a crescere attraverso il continuo ampliamento della gamma a prodotti e il miglioramento dei servizi di personalizzazione, che insieme allo sviluppo di importanti partnership e di acquisizioni, aiuteranno i clienti ad ottenere nuovi successi. Grazie a tutti.